Subito un assegno mensile di almeno 600 euro alle famiglie campane in difficoltà per garantire casa, cibo e salute. Così sul social network è intervenuto Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania. È un provvedimento che deve essere fatto in tempi brevissimi. Ci sono, dice Caldoro, le coperture economiche. Ci sono 4,5 miliardi del governo ed un miliardo con la riprogrammazione dei fondi europei della regione Campania. Un assegno di sostegno di almeno 600 euro che può essere dato a tutti quelli, alle famiglie, alle persone che hanno bisogno oggi e che stanno in una situazione di grande difficoltà. I fondi ci sono, 4 miliardi e mezzo del governo, più possiamo prendere circa un miliardo di riprogrammazione dei fondi europei regionali. Cosa si può fare con questo assegno? Intanto casa, cibo, farmaci e sanitari, tutto quello di cui c'è bisogno subito, immediatamente, di cose irrinunciabili per le persone che sono e per le famiglie che sono in difficoltà. Puoi affidare questo strumento ai comuni che fanno le scelte sapendo bene quali sono le situazioni di vera e reale emergenza sociale. Questo è uno strumento che si può realizzare in tempi rapidi ed è sicuramente efficace, quindi dobbiamo immediatamente lavorare per renderlo operativo nella nostra regione.